Ora vediamo come si lega una girella a un filo, si prende una girella, io l'ho scelta grande per fare le cose più facili, si passa il filo dentro, così, si gira per due o tre volte, così, si passa dentro l'occhiello che si forma, così, e si ripassa in quest'altro occhiello, si tira, e l'occhiello, il nodo è fatto.